Marco Setti, confermate il vostro impegno accanto insieme a Modena Volley, cosa vi ha spinto a rinnovare questa partnership? In realtà è il proseguimento naturale di un progetto che abbiamo iniziato con la nuova proprietà, e quindi quell'anno si è cambiato un po' tutto, noi confermiamo anche quest'anno l'impegno in continuità rispetto a quello che era un programma che non può essere di un anno solo ma deve essere rappresentato da un ciclo così un po' come l'evoluzione che sta avendo anche la società. Ci troviamo perfettamente allineati da tanti punti di vista, compresi quelli valoriali e quelli della mentalità che sta portando avanti la società, per cui questa è una base importante e per questo motivo abbiamo confermato questa sponsorizzazione che comunque consideriamo molto importante anche da un punto di vista della visibilità del nostro gruppo. Ecco, quando inizia un campionato hanno aspettativi i giocatori, i tecnici, i dirigenti, quali sono invece gli auspici, le aspettative, gli obiettivi del main sponsor? Ma noi facciamo il tifo per la squadra, nel senso che è un investimento che facciamo anche per dare una visibilità e ad essere presenti nel territorio, quindi al di là di quelli che sono i risultati. Non mettiamo pressione alla squadra, certo facciamo il tifo, speriamo che le cose vadano sempre al meglio. Il primo anno abbiamo portato a casa una coppa, il secondo anno è stato un po' più di transizione. Quest'anno partiamo con ottime aspettative, ma non forziamo e spero solo che le cose vadano al meglio, soprattutto per la società. Grazie. Grazie.